perfetto allora grazie ancora piero ricordo per chi sta seguendo per la prima volta che questa come tutte le altre lezioni saranno registrate e messe sul sito di transform italia e comunque poi piero manderà a tutti anche il link anche di questa e do subito la parola a piero per presentazione della lezione di oggi e ringrazio piero ringrazio il professor raddeni per aver partecipato grazie ancora piero grazie a te roberto roberto morea che rende possibile queste queste lezioni ogni giovedì e allora ricordo intanto ringrazio per giorgio ardeni per aver accettato di essere con noi questa sera ricordando che è docente di economia politica e dello sviluppo all'università di bologna a questa università si è laureato ha cominciato diciamo i suoi studi e lui nasce come si dice in gergo accademico come come economista agrario e come tutti gli economisti agrari di rango è stato negli stati uniti ha fatto la sua gaveta negli stati uniti e precisamente in california gli economisti agrari italiani ma anche quelli europei vanno vanno in california e a berca l'università di berkeley stato research assistant e e qui ha conseguito il pcd e poi è tornato in italia ha insegnato prima urbino poi nella sua università a bologna dove ha percorso tutti i gradi i gradi della carriera occupandosi di economia finanza di politica finanziaria di economia dello sviluppo economia dello sviluppo internazionale allora a bologna ricordo alcune alcuni dati relativi alla sua attività accademica e anche organizzativa è stato fondatore direttore di diversi master dal 2006 dirige la summer school of monitoring and evaluation of international development program tradotto diciamo in volgare significa che si occupa dei programmi di aiuto e di sviluppo ai paesi ai paesi poveri e lui molto viaggiato è stato fisicamente nei luoghi dove ha lavorato naturalmente in collaborazione con le istituzioni di diversi paesi in mozambico in armenia in bulgaria cipro in turchia in bosnia erzegovina in ucraina e così via poi dalla diciamo dai dal nuovo millennio ha intensificato questa attività internazionale è stato di nuovo negli stati uniti con la stella state università di new york ha collaborato per programmi diciamo di contenimento della poverità in afghanistan in kazakhistan e in altri con simili paesi e presidente fondatore del center for international development e dal 2016 al 2019 è stato presidente dell'istituto cattaneo di bologna collabora assiduamente al manifesto a left e al domani di recente ricordo del delle sue pubblicazioni diciamo i libri testi i testi più 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 recenti ricordo che nel nel nell'invito nel diciamo nella nell'avviso che ho inviato ci sono in pdf tre articoli di ardeni che sono molto utili per capire i problemi che affronterà questa sera oltre che diciamo i suoi interessi e anche il suo modo di scrivere che un modo di scrivere chiaro facendo comunicativo e molto efficace cosa che naturalmente non guasta in uno studioso di soprattutto uno studioso di economia allora ricordo dagli appennini allo spawn river storie dell'emigrazione e dalla montagna bolognese modenese verso l'america trotte novecento gente di gaggio 2011 che è un diciamo una ricerca esterna rispetto ai suoi interessi dominanti è stata anche tradotta in inglese evidentemente una un tipo un tipo di ricerca dovuta alla al suo legame con con la terra emiliana e poi ha pubblicato ecco ci avviciniamo un po di più ai problemi nostri le radici del populismo per la terza nel 2020 e con mauro gallegati pubblicato alla ricerca dello sviluppo un viaggio nell'economia dell'italia unita per il mulino 2022 il ditorno il ditorno della storia questo da solo la crisi ecologica la pandemia e l'irruzione della natura castelvecchi 2022 infine da ultimo ha curato insieme insieme a stefano bonaga un insieme di contributi di saggi dal titolo oltre l'impotenza della della politica allora questa sera pierre giorgio ci ci parlerà dello sviluppo un tema che lui ha come dire lungamente studiato per promuoverlo ma che oggi vede tutti i suoi limiti vede come dire nelle sue conseguenze sia di ordine sociale lo sviluppo così come si sta realizzando è un motore di lacerazioni sociali di disuguaglianze di distruzione delle relazioni umane e sul piano sul piano ambientale e la gente principale che minaccia come dire gli equilibri naturali in cui tutti noi viviamo quindi io non lo faccio più in lunga e gli cedo subito la parola allora grazie piero dopo questo escursus biografico mi hai fatto ripensare a molte cose che la prima delle quali a proposito di sviluppo perché da quando io ho cominciato io feci la tesi appunto a berkeley su sviluppo internazionale international development già si chiamava così allora e a berkeley c'erano questi grandi studiosi a quel tempo sherman robinson la la irma edelman insomma c'era tutto un gruppo di persone poi venne in contatto con han singer che era quello dell'ipotesi di ipotesi di previs singer e comunque per venire al tema da allora io mi sono sempre occupato di sviluppo di questo discorso della riduzione della povertà sono andato in paese sono stato in mozambico quattro anni insomma e da un certo punto di vista io ho sempre pensato già dopo una decina d'anni come tanti altri che lavoravo con colleghi come le cose in fondo cambiassero molto lentamente o non cambiavano mai affatto e oggi riguardando indietro almeno questi trent'anni vabbè io feci il pc di finì nell'ottantanove sono già passati più di trent'anni si può dire che tante cose sono rimaste sono rimaste lì anche se ci sono stati dei grandi cambiamenti il primo dei quali allora ci sono i cambiamenti positivi tanti paesi che sono cresciuti le condizioni sono migliorate e tanti paesi e tanti però questo sviluppo si è portato dietro i suoi i suoi aspetti molto negativi di cui noi noi stessi siamo siamo consci siamo partecipi siamo allora il tema che mi hai dato in effetti e lo sviluppo i suoi limiti è un tema bastissimo allora io adesso mi passo alle slide ho pensato di impostare questa lezione in modo molto come dire semplificato cioè non è una una non ne ho fatto una cosa come come mi sembra fosse negli nelle intenzioni di queste lezioni di questa scuola una cosa accademica ma insomma una cosa che si prestasse al all'uso e alla partecipazione di un pubblico più vasto e non non specialistico no allora io adesso cerco di condividere lo schermo se mi potete dire se lo vedete ancora no sì un attimo ecco lo vedete vedete una grande slide sì sì si vede ok quindi lo sviluppo i suoi limiti ehm tra l'altro io i corsi da molti anni vabbè eh io insegno di fatto insegno da molti anni economia dello sviluppo nelle sue varie articolazioni negli ultimi anni qui a Bologna i corsi delle lauree trennali sono in italiano i corsi delle lauree magistrali sono in inglese adesso insegno anche un corso di international development per per gli studenti di una laurea magistrale interdisciplinare dove ci sono dentro anche biologi e e studiosi insomma di scienze della terra e quindi è un master interessante ma multidisciplinare e e poi insegno in quel master anche economia si chiama environmental and resource economics e quindi un po preso anche da però pochissimo da questi da questi da questi corsi per preparare queste lezioni quindi vediamo come funziona qua allora la la prima questione è quando si parla di sviluppo è naturalmente cosa si intende per sviluppo una parola che è entrata nel gergo nel gergo degli economisti ma poi nel gergo della politica insomma però da da non molto tempo è interessante perché eh l'economia lo sviluppo è un termine che sostanzialmente nasce nel dopoguerra eh se uno legge adam smith per esempio la parola development non c'è mai è veramente interessante eppure il suo libro si chiamava no si intitolava la ricchezza delle nazioni cioè è il tema centrale in fondo del di già di adam smith è quello dello sviluppo e eppure non si parla mai non si usa mai questo termine comunque l'economia capitalistica diciamo così è fondata sulla crescita non sulla semplice riproduzione come era l'economia pre capitalistica parlerò dopo comunque c'è una differenza tra crescita e sviluppo anche se nel linguaggio spesso comune sono sono associati la crescita come dire possiamo dire un aumento quantitativo della dimensione dell'economia appunto come dice il termine eh porta un aumento del numero della quantità di beni disponibile un aumento dei profitti reddito dei capitalisti cioè gli imprenditori proprietari dei mezzi di produzione e il reddito dei lavoratori quindi questo si traduce in un aumento della domanda di beni e servizi e miglioramento delle condizioni di vita nel tempo questo ha portato porta a sviluppo ed è per questo che crescita si associa a sviluppo perché sviluppo invece lamento quantitativo e qualitativo dell'offerta di beni e servizi di un'economia di una società un'economia può crescere senza svilupparsi cioè si espande semplicemente ma può anche smettere di crescere continuando a svilupparsi e questo cioè in un certo senso un'economia è come un essere vivente un albero una pianta però un essere vivente di solito poi muore prima o poi però possiamo pensare come anche un individuo che cresce dall'adolescenza dalla dall'infanzia l'adolescenza poi diventa adulto continua a svilupparsi perché continua ad acquisire esperienza con conoscenze capacità di muoversi di stare al mondo insomma ma non smette di crescere e questo è vero anche per un'economia cioè l'economia in effetti negli ultimi decenni l'economia hanno smesso di crescere sostanzialmente le economie avanzate capitalistiche o hanno sono cresciute abbastanza lentamente poco senza però smettere di svilupparsi quindi quando noi parliamo di sviluppo noi diciamo quando gli economisti parlano di sviluppo sostanzialmente intendono lo sviluppo economico cioè lo sviluppo è una di quelle parole uno di quei termini che per essere qualificato ha sempre bisogno di un altro aggettivo perché se no rimane un po indefinito allora si dice lo sviluppo economico cioè lo sviluppo che porta a un ampiamento dell'economia ma anche delle condizioni di vita dei servizi insomma di tutto quello che compone un'economia e una società nella interazione che si determina tra economia e società come possiamo descrivere la storia dello sviluppo perché è da qui che parte tutto questo ragionamento che noi facciamo oggi perché nel passato noi lo diciamo c'erano altre società che si sono che diciamo che si erano sviluppate la società della crece classica era sviluppata per i suoi tempi sì quella della roma classica era sviluppata per i suoi tempi sì venezia per esempio all'apice della sua potenza era sviluppata per i suoi tempi sì tra l'altro venezia è un esempio di una di una città di un insomma di un'economia che cresce anche proprio dal punto di vista quantitativo cresce il suo prodotto interno lordo cresce la sua la ricchezza prodotta crescono gli scambi aumenta anche la popolazione e diventa arriva in una fase diventa il paese lo stato insomma l'economia con il pil pro capita più alto del mondo secondo le stime che sono state fatte di recente quindi il concetto di sviluppo poi è sempre relativo perché si deve riferire un concetto come si diceva marxisticamente storicamente determinato cioè va legato va collocato nel contesto storico in cui a cui lo si applica se guardiamo la storia con gli occhi di oggi però potremmo dire che non diciamo una cosa approssimata ma che lo sviluppo vero e proprio arriva solo con lo sviluppo capitalistico perché lo sviluppo capitalistico consente un aumento del reddito pro capite cioè una disponibilità di beni servizi mai visto prima è un indicatore certo ma questo è il fatto è un miglioramento delle condizioni di vita per la grande maggioranza della popolazione mai visto prima cioè questi due elementi se confrontati con il passato ci fanno dire che oggi abbiamo come dire raggiunto uno stadio di sviluppo vero e proprio che non era mai stato raggiunto prima per quanto la vita potesse essere bella e gradevole il benessere alto nella grecia classica per almeno una fetta della popolazione certo non parliamo di quelle minoranze né tantomeno dei governanti che nel nella storia sono sempre stati bene diciamo così ma diciamo però anche anche da questo punto di vista la mortalità era alta insomma le condizioni di vita erano quelle che erano se confrontate all'oggi naturalmente ma proprio dal punto di vista come dia di alcuni indicatori fondamentali che sono la disponibilità di alimenti l'età media e via dicendo e questo miglioramento delle condizioni di vita tra l'altro che si è registrato negli ultimi due secoli ed è stato sicuramente dovuto allo sviluppo capitalistico è un miglioramento che ha riguardato nel tempo la grande maggioranza della popolazione e anche questa è una novità perché nella storia certo ci sono state sempre le elite che si sono mantenute in condizioni di vita discrete per l'epoca ma la grande maggioranza della popolazione viveva in condizioni di sopravvivenza di sussistenza questo miglioramento generalizzato delle condizioni di vita è una delle caratteristiche dello sviluppo capitalistico cioè quello attuale se noi quindi lo guardiamo la storia umana e possiamo vederla come un lungo processo di emancipazione dal bisogno e in questo consiste primariamente lo sviluppo che non è solo economico ma è prima di tutto economico quindi l'emancipazione dal bisogno prima di tutto alimentare cioè procacciarsi il cibo di protezione dalle condizioni atmosferiche allora mi è arrivato un messaggio di qualcuno che chiede dove si trova il link per seguire la conferenza io non lo so se c'è un un canale pubblico dove si trova il link per seguire la conferenza lo chiedo lo chiedo chiedo a pino ippolito diciamo l'amico che mi viene immediatamente in mente però sul sito di trasforma italia basta andare sul sito di trasforma italia c'è una sezione che elezioni cosmopolite lì si trova il link ok va bene grazie grazie per informazione il link l'ho messo anche qui nei commenti sulla scia della riunione se lo si vuole copiare e spedire l'italia non ho il link della sessione zoom e trasforma italia ok tornando a noi poi da quando l'agricoltura da quando lo scopri l'umanità e l'agricoltura l'umanità allora diventa sedentare insomma la storia la conosciamo ovvero si installa in un luogo preciso si addensa in comunità villaggi che poi si espandono divenendo città questo comporta organizzazione difesa del territorio tanto che la struttura sociale si fa gerarchica c'è chi organizza chi esegue il lavoro si specializza e qui insomma così nascono le si affermano le civiltà che sono poi le civiltà sono l'insieme di queste capacità di appunto di sviluppare una comunità che vive di quello che offre la natura mediante l'agricoltura mediante il lavoro umano e che si organizzano poi naturalmente questo è tutto molto semplificato anche i commerci tra le comunità nascono dalla possibilità di scambiarsi ciò di cui non si dispone e più le società si espandono più aumentano i bisogni quando ciò di cui si dispone non è più sufficiente si pongono tre alternative storicamente aumentare gli scambi esterni migrare in un nuovo territorio o invadere un territorio dove altri non sono ancora dove altri sono già insediati in tutte le società del passato dalle meno alle più sviluppate la dipendenza da ciò che offre la natura però è totale e questo è ciò che caratterizzerà il capitalismo già nella sua fase mercantilistica insomma dal diciamo dal cinquecento in avanti la emancipazione da questa dipendenza ciò che si ottiene che si può ottenere dall'agricoltura ed allevamento è molto dipendente dalla fertilità dei terreni dalle condizioni climatiche quindi dalle disponibilità idiche e dalla tecnologia la tecnologia è fondamentale in questo processo se noi guardiamo dall'età della pietra quella dei metalli cambia il modo di coltivare i terreni no all'inizio è la zappa poi si passa l'aratro trainato dagli animali con la ruota si organizza il trasporto che può avvenire anche via acqua via imbarcazione la tecnologia si evolve sempre grazie a scoperte che consentono di aprire nuove possibilità dai tessuti mezzi di coltivazione alle armi è la tecnologia che consente lo sfruttamento maggiore della condizione che offre la natura dell'agricoltura dell'allegamento eccetera quindi le possibilità di sopravvivenza e sussistenza di una popolazione dipendono sempre dall'insieme dato dalle condizioni locali e dalle tecnologie di cui si dispone certo in questo va anche considerata la demografia ovvero l'interazione tra natalità e mortalità e allora però questo quadro che ho fatto molto schematico e sintetico vale fino sostanzialmente fino all'affermazione del mercantilismo e poi del capitalismo cioè vale per millenni fino al 1500 dopo cristo sostanzialmente per molto tempo e parliamo di millenni cioè fino a poco tempo fa qualche secolo fa la natalità è sempre stata molto alta in tutte le società del mondo e allora perché era molto alta sia perché la mortalità infantile era alta e quindi i bambini morivano e quindi si facevano più figli ma soprattutto perché i figli erano necessari alla famiglia per sopravvivere e ciò è vero questa è una costanza di tutte le società umane ma anche delle società che si evolvono delle di tutte le civilizzazioni la mortalità è sempre stata più alta del molto alta è più alta della la natalità è sempre stata più alta della mortalità anche la mortalità era alta ma questa era inferiore alla natalità e una volta se si superava l'età dell'adolescenza la mortalità diminuiva però questa caratteristica di alta natalità e alta mortalità resterà è un processo che i demografi hanno studiato a lungo resterà per lungo tempo per lungo tempo ora quando le condizioni locali erano buone cioè periodi di buone condizioni climatiche pace e prosperità la popolazione aumentava cioè si moriva di meno la natalità superava di molto la mortalità perché morivano bene bambini e si stava meglio fisicamente quando le condizioni peggioravano la popolazione diminuiva e c'era meno disponibilità di cibo si stava peggio la mortalità aumentava fino anche a superare la natalità quindi periodi prolungati di buone condizioni portavano un'espansione della popolazione e quindi a un'espansione sul territorio ricerca di nuovi terreni da mettere a cultura eccetera periodi prolungati di cattive condizioni portavano invece a una contrazione della popolazione questo meccanismo demografico viene oggi chiamato malthusiano no dal reverendo thomas malthus un inglese di fine settecento che noi conosciamo che aveva poi cioè viene detto malthusiano perché malthusiano si era opposto il problema ma insomma non sto a entrare in quello che poi malthus aveva allora nella storia del mondo e quindi di tutte le civiltà ma anche poi venendo più vicino a noi di tutte le nazioni paesi quando guardiamo alle singole civiltà o paesi c'è sempre stato un meccanismo malthusiano alla base certo non solo dato dalle condizioni fisiche ma dall'insieme delle condizioni che avevano permesso la fermarsi di quella civiltà no e questo questo meccanismo è vero sin dai tempi delle prime civilizzazioni nel medio oriente fino fino sostanzialmente a all'inizio dell'età capitalistica o mercantile lo sviluppo delle tecnologie è stato fondamentale per garantire il progresso e questo progresso appunto questo progresso che economico tecnologico progresso poi naturalmente non solo anche civile e culturale ma qui stiamo parlando fondamentalmente delle condizioni di vita roma si afferma e si espande grazie ad una superiorità militare si ma si afferma grazie alla disponibilità delle sue risorse rispetto ai popoli che va a dominare e ai territori che va a conquistare roma è un esempio di come la superiorità tecnologica sia determinante se noi pensiamo agli acquedotti le strade l'organizzazione dello stato la struttura sociale questo è ciò che ha consentito a roma di emergere di darle la superiorità e questo avviene per tutte le se noi guardiamo la storia delle 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 altre civiltà è stato vero sempre c'è una superiorità che è tecnologica ma che vuol dire non solo tecnica vuol dire un insieme di cose che consentono appunto lo sviluppo la popolazione e qui torniamo a guardare la popolazione nel millennio romano che va all'incirca dal 700 avanti cristo al 400 dopo cristo si espande si espande la produzione si espandono i commerci migliora la tecnologia e se noi guardiamo questo miglioramento avviene grazie allo sforzo collettivo non certo individuale e allo sforzo dello stato uno sforzo finanziario organizzativo se noi pensiamo all'invenzione che sono stati gli acquedotti ma non è stata l'invenzione di una persona no ma nemmeno di un'impresa è stato uno sforzo collettivo ma come tutte le le miglioramenti che seguono cosa succede nei sei se nei sei secoli successivi al disfacimento dell'impero si sfalda anche quella intelaiatura che permette lo sviluppo ad esempio gli acquedotti vengono abbandonati non c'è più che li gestisce così come le reti le reti idriche cittadine le terme le strade chi mantiene le strade certo le strade erano state fatte per durare infatti le strade romane rimangono ma non c'è più chi li mantiene la popolazione si raccoglie attorno alle città i burgi dove più protetta e si ha un callo della popolazione complessiva si entra in una fase malthusiana negativa per una serie di ragioni naturalmente cioè qui stiamo semplificando però la popolazione comincia a diminuire in quei secoli o resta stagnante poi ci sono le pesti poi c'è quelli e l'invasione degli eserciti dopo il mille in europa con la relativa stabilità che si stabilisce più o meno attorno al mille delle tante entità statali che si sono create che sono poi domini su territori più o meno vasti rifioriscono i commerci e di nuovo si affermano entità con una certa supremazia tecnologica pensiamo alle repubbliche marinare perché le repubbliche marinare perché hanno una tecnologia navale superiore per l'epoca e si espandono infatti le città portuali e le sedi di mercati dove quindi in paesi che hanno la faccia sul mare l'italia e l'olanda soprattutto riprende la dinamica della popolazione ma ciò è vero anche per i paesi asiatici che reggire che hanno una storia meno traumatica diciamo così dei conflitti che ci sono stati in europa dopo le invasioni barbariche come vengono chiamate insomma tutto quello che ne è seguito ma non meno dinamica ai paesi asiatici l'invasione mongolica e se è simile per gli effetti che produsse all'invasione barbarica in europa tra l'altro per le stesse ragioni come sappiamo in quell'epoca c'è stato un raffreddamento delle delle zone artiche anzi un vero e proprio una vera e propria piccola era glaciale che ha portato al raffreddamento della siberia allora le popolazioni che stanziavano nelle nella russia si spostano a sud e a ovest quindi i mongoli verso la cina e gli altri verso le steppe europee questi fanno spostare le popolazioni le popolazioni che vi risiedono che cominciano a premere i confini dell'impero è lo stesso processo la popolazione però se noi guardiamo nell'insieme dell'europa occidentale resta sostanzialmente stabile cioè se noi guardiamo le stime che sono state fatte della popolazione residente diciamo così nell n in europa è la stessa lo stessa popolazione alla all'inizio dell'era cristiana e dopo mille anni 25 milioni di abitanti naturalmente con delle oscillazioni ma la popolazione resta quella e così come in cina anche in cina c'è stata la stessa dinamica 59 milioni all'inizio dell'era cristiana 59 milioni dopo mille anni e lo stesso in india 75 milioni nell'anno mille in europa ci sono solo quattro città con più di 10 mila abitanti stimati in italia la popolazione all'inizio dell'era stimata era di 7 milioni di abitanti di cui poco meno di un milione nella sola roma pensate nell'anno mille la popolazione italiana sulla penisola italiana è di 5 milioni e queste sono stime di madison che conoscete insomma madison è stato uno studioso popolazione del reddito ha ricostruito le stime per tutti i paesi insomma ha fatto un grandissimo lavoro ha dedicato la sua vita a ricostruire queste stime insomma in un millennio la popolazione mondiale passa dai 230 milioni ai 268 per dire che complessivamente la l'elemento maltusiano rimane poi dopo il mille le cose cambiano cambiano in europa cambiano anche in asia grazie alle migliorate condizioni generali maggiore stabilità eccetera eccetera la popolazione nel 1300 ad esempio già raddoppiata siamo arrivati a 58 milioni in in europa 100 milioni in cina la grande peste del 300 provoca un crollo tant'è che nel 1400 la popolazione la popolazione scende a 41 milioni e mezzo e in cina scende fino a 72 milioni mentre in giappone dove non c'è stata la peste continua a salire ma nel 1500 la popolazione è tornata a salire siamo a 57 milioni in europa di cui 10 milioni in italia 15 in francia eccetera pensate un milione solo di abitanti in portogallo il portogallo che divenne una potenza economica con un impero un piccolo impero ma aveva un milione d'abitanti sei milioni e otto in spagna quattro milioni sulla penisola britannica che allora va bene in cina comunque siamo già 103 milioni di abitanti e a 110 milioni in india l'america latina si stima cioè quei paesi che poi furono conquistati da spagnoli e portoghesi si stima che gli abitanti erano 17 milioni quindi molto di più che non gli abitanti di spagna e portogallo la cosa interessante ma anche in un certo senso straordinaria sconvolgente è che sì nel 1500 è cresciuta la popolazione si sono intensificati gli scambi ma l'agricoltura che è la fonte fondamentale di ovviamente di alimento è fondamentalmente la stessa cioè le tecniche agricole della dell'europa del 1500 sono le stesse di quello della roma dell'inizio dell'età cristiana non è cambiato praticamente nulla c'è stato qualche miglioramento come ad esempio la rotrazione in tre cicli da magese cereali e leguminose che viene introdotta verso il quattrocento si è introdotta la concimazione ma per il resto le tecniche e la produttività quindi sono le stesse si sono intensività intensificati gli scambi grazie ai trasporti ma il cibo come sappiamo non può essere trasportato più di tanto ed è per questo che crescono le città perché è più facile rifornirle mentre nelle campagne l'agricoltura resta di sussistenza quindi quando siamo al 1500 la popolazione europea ma nel resto del mondo è lo stesso non è ancora uscito dal suo ciclo maltusiano anche se c'è una maggiore prosperità complessiva che però riguarda una minoranza della popolazione siamo nell'età del rinascimento sta aumentando la come dire la prosperità complessiva ma per l'insieme della popolazione però un fatto economico fondamentale è che questa in più intensa attività economica fa aumentare la domanda di oro e di argento è naturale cioè più aumentano le transazioni più c'è bisogno di moneta per gli scambi ora siccome la l'offerta di oro e argento non è troppo elastica perché loro e l'argento arrivavano dall'africa no portati fondamentalmente da delle carovane dall'africa occidentale ma è molto semplice aumentando il numero di transazioni deve aumentare la quantità di di oro e argento in circolazione quindi essendo l'offerta limitata questo effetti inflattivi se avete letto il de camerone leggerete no dei prezzi che aumentano ma questo dell'aumento dei prezzi nel 300 è stato ampiamente documentato è un effetto inflattivo dovuto alla alla scarsità di oro e argento poi naturalmente con la peste la diminuzione della popolazione quindi delle transazioni il problema rientra rientra per circa un secolo ma nel 400 siamo di nuovo punte da capo e quindi la ricerca di oro diventa un motore è il vero motore dell'esplorazione di nuovi territori quando gli spagnoli arrivano nel nuovo mondo c'è sono gli europei che si avventurano fuori dai loro tre questa è una cosa che per quanto io abbia studiato e letto gli studiosi non hanno secondo me ancora trovato una risposta completamente sufficiente perché sono gli europei ad avventurarsi fuori dai loro territori non lo fanno i cinesi non vanno a conquistare altri territori lontani che pure dei cinesi dispongono di una tecnologia navale avanzata diversa da quella europea ma avanzata non lo fanno gli indiani che sono tanti ma evidentemente perché le risorse sono disponibili per loro sono sufficienti internamente per gli europei no è una fase in cui c'è un aumento della popolazione che evidentemente non è sufficiente per il liquore per la quale l'offerta di beni e quindi degli scambi non è sufficiente sono gli europei ad avventurarsi ma con che spirito gli europei vanno in cerca di ricchezze non lo fanno e lo sappiamo perché vogliono dominare dei territori per il puro gusto di vanno in cerca di ricchezze e in particolare vanno in cerca di di oro ed argento quando gli spagnoli arrivano nel nuovo mondo sappiamo cioè non sanno cosa fassano di quel territori ricchissimi se non se non rapinarli dell'oro e dell'argento che hanno e poi cominciare a estrarlo a scavallo aprono miniere e conquistano questi territori grazie a che cosa grazie alla superiorità militare gli europei si sono fatti le guerre per mille anni hanno una superiorità militare indiscussi sicuramente superiore a quella degli centro americani superiore a quella di chiunque altro nel mondo e poi come sappiamo i germi gli aiutano nella loro supremazia sono portano malattie nel nel nuovo mondo che concorrono a decimare la popolazione poi dopo l'argento e loro e cominceranno a utilizzare i territori per zucchero legname altri prodotti ma la cosa interessante è che spiega poi perché lo scopo non era quello della conquista per per l'insediamento è che non c'è un'immigrazione di massa di spagnoli e portoghesi conquistano dominano sottomettono militarmente ma non c'è una migrazione verso i nuovi territori così come non ci sarà una migrazione dei francesi ad esempio degli olandesi che pure diventano seguono gli spagnoli nella nella esplorazione nella conquista delle colonie come sappiamo anche gli inglesi all'inizio vanno sono soprattutto quelli che se ne vogliono andare che non sono ben graditi in gran bretagna non è una immigrazione una immigrazione di contadini diciamo così di farmers che vanno nelle colonie le colonie a questo processo non partecipano gli italiani genova e venezia perché mantengono il flusso il domino sui flussi del mediterraneo e con l'oriente quindi c'è una suddivisione come dire una divisione del mondo che viene così alla colonizzazione poi come sappiamo seguirà la fase imperialistica però perché è importante questa questa tutta questa lunga diciamo così premessa per spiegare intanto come nasce la fase mercantile ma soprattutto spiegare quale sarà la differenza con l'età capitalistica lo sviluppo nella fase mercantile primeggeranno gli olandesi e poi gli inglesi gli olandesi che sostanzialmente stabiliscono dei punti non delle vere e proprie colonie ma dei 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 punti di di dei dei porti commerciali solo poi si avventureranno in indonesia ma la colonizzazione di territori è limitatissima la faranno un po in nord america ma arrivati a un certo punto venderanno quei territori agli americani gli olandesi sono dei commercianti sono dei commercianti che estraggono trasportano e commerciano in europa una grande quantità di prodotti materie prime dalle colonie faranno così anche gli inglesi però gli inglesi poi diventeranno una potenza anche nel dominio dei territori ora se guardiamo al prodotto pro capita appunto un indicatore di quanto una economia produce per abitante che fino al 1500 come detto è fondamentalmente agricolo cioè il prodotto è l'insieme delle delle attività ora sì ci sono delle attività commerciali ci sono ma che sono fondamentalmente di spezie e tessuti come la seta ma sono una parte piccola del prodotto totale il prodotto totale fondamentalmente agricolo e minerario sì ma siccome non disponiamo di tecnologie avanzate anche quello è limitato eppure nel 1500 in europa è già maggiore il prodotto pro capite che non in cina è maggiore per esempio in paesi come l'italia in particolare cosa vuol dire l'italia vuol dire genova venezia milano firenze nei paesi bassi cioè nelle entità dove si è già sviluppata un'industria artigianale che sfrutta questi commerci e le come dire le attività finanziarie commerciali che generano reddito questo prodotto è più alto che non in cina è già cominciato la cina viaggia ancora come dire in uno status di economia autosufficiente e maltusiana l'europa comincia a produrre di più l'aumento diventa via via più consistente e per almeno tre secoli che questa lunga fase mercantile il prodotto aumenterà grazie a queste attività commerciali nei paesi bassi nella gran bretagna in francia spagna e portogallo mentre con il declino di venezia di genova l'italia resterà al palo il prodotto interno lordo stimato dell'italia pro capite è lo stesso per tre secoli resta fermo qui ci sono anche delle stime vabbè posso anche posso anche tralasciare di illustrare queste stime però questa è una fase importante perché è la fase in cui per la prima volta nella storia dell'umanità questo è un dato importante sia accumulazione di ricchezza non era mai successo ma non era neanche mai successo ai tempi non lo so degli egiziani di greci remida era leggendario proprio perché trasformava tutto in orma non si accumulava ricchezza non si aveva mai una produzione tale anche per via commerciale tale da permettere l'accumulazione di ricchezza se non naturalmente se escludiamo i pochi potenti re ma anche questi in fondo poi accumulavano ben poco in questa fase mercantile invece c'è un'accumulazione di ricchezza di ricchezza finanziaria parliamo proprio di capitale di quello che si chiamerà capitale no grazie a questi commerci si accumula ricchezza nascono le compagnie assicurative le banche diventano quella cosa più vicina alle banche moderne che sono che sono oggi insomma e ma perché non sia non sia ancora accumulazione che non per via commerciale perché i miglioramenti tecnologici ancora non sono tali da aumentare né la produzione di prodotti alimentari né di altri prodotti c'è una industria artigianale sì ma il suo contributo è ancora modesto cioè tutte le attività sono sufficienti sicuramente alla sopravvivenza e anche al vivere bene diciamo così alcune attività ma non consentono l'accumulazione non c'è mai un tale surplus come direbbe il buon vecchio max da tale da generare da generare accumulazione ma questa possibilità dell'accumulazione si concretizza per la prima volta nel settecento quella di accumulare per via tecnologica per una combinazione di fattori lo sappiamo nuove tecnologie vengono sperimentate e c'è un industria artigianale tessile della lavorazione del cotone a cui queste nuove tecnologie verranno applicate l'invenzione della macchina vapore in questo senso è un'innovazione rivoluzionaria che nasce lo sappiamo per un insieme di fattori non ultimo anche lo sviluppo di una cultura scientifica che col 600 francis bacon insomma c'è una cultura un atteggiamento culturale diverso in inghilterra molto meno in il resto d'europa ma ma ci sono anche le condizioni poi oggettive la disponibilità di capitali mettersi lì a costruire una macchina vapore non è una un esercizio da poco insomma questo macchinaio nuovo che utilizza carbone acqua produce energia motrice con una potenza che è incommensurabilmente maggiore di quella prodotta dalla forza umana che azionava il telaio e le altre macchine dell'industria artigianale certo già in altri casi si era ricorsi all'uso di energia generata dal vento come i mulini o dall'acqua ma in questo caso il macchinario è molto più duttile e maneggevole e quando viene applicata a macchinari già in uso come nell'industria tessile il vantaggio che ne viene è massimo per la prima volta si può produrre tanto e la rivoluzione industriale consiste proprio in questo nella trasformazione dell'industria artigianale nasce la fabbrica dove si concentrano grandi macchinari e la manodopera che li fa funzionare la fabbrica che però deve essere locata dove siano disponibili carbone acqua ciò spiega perché la rivoluzione industriale comincia tra liverpool e manchester perché all'inizio non c'è modo di trasportare carbone acqua necessaria far andare le macchine a vapore i volumi di produzione si moltiplicano il prodotto artigianale viene sul classato deve ridefinirsi il vecchio artigiano non è più necessario ora serve l'operaio che fa azionare le macchine che tanto fanno tutto loro in poche parole come si direbbe con linguaggio di economista con le nuove tecnologie si produce molto di più con la stessa quantità di ore lavorate i nuovi macchinari hanno bisogno di molto di quantità molto maggiori di input materie prime che danno luogo a molto maggiori quantità di output e questo consente l'accumulazione poi questo fa ampliare i mercati perché i costi unitari sono diminuiscono enormemente che quindi calano i prezzi dei prodotti dei tessili dei tessuti cresce la domanda che alimenta la produzione e le nuove fabbriche però hanno bisogno di mano d'opera che quindi viene attratta dall'agricoltura dove non è per lo più in surplus come sappiamo e vive di sussistenza e ciò da luogo alle grandi migrazioni dalla campagna verso gli agglomerati industriali quindi la struttura sociale cambia i nuovi lavoratori salariati vanno a formare il proletariato i cui salari però restano per lungo tempo bassi a livello di sussistenza per via dell'enorme offerta di lavoro l'industria si amplia insomma il processo lo conosciamo poi con nel giro di 50 anni cambia ulteriormente in modo radicale cambia nella disposizione la distribuzione sul territorio perché poi si distribuisce nei paesi bassi in francia in certe zone della germania dove ci sono i capitali necessari per le macchine e dove si è già accumulato il capitale in 50 anni poi vengono introdotte quelle nuove tecnologie che faranno fare il salto definitivo a questo modello di industria la locomotiva la nave a vapore l'acciaio le industrie non devono più sorgere nei pressi delle miniere di carbone ferro i trasporti rivoluzionano sia l'organizzazione che la commercializzazione e questo è il capitalismo industriale come lo conosciamo che si spende più o meno velocemente agli altri paesi europei cioè austria svizzera italia danimarca svezia l'italia arriva buona ultima ma anche ai cosiddetti europei cioè come gli stati uniti e il canada dell'industrializzazione beneficiano tutti i settori agricoltura inclusa quindi è un processo virtuoso che porterà poi all'aumento della produzione agricola con la meccanizzazione con la chimica poi l'uso l'introduzione dell'elettricità insomma il progresso tecnologico favorito dal capitalismo che a sua volta alimenta e per questo progresso tecnologico naturalmente il contributo della ricerca scientifica è fondamentale come lo è quello dello stato che grazie all'aumento del reddito può finanziare gli investimenti in infrastrutture che ne so gli acquedotti l'elettrificazione delle città eccetera eccetera le strade le scuole gli ospedali quindi questo è quello che porta il capitalismo ma tutto questo avviene quindi portandosi dietro un cambiamento sociale rapidissimo incalzante ma anche drammatico questa storia la conosciamo l'espansione della attività industriale porta all'espansione della classe operaia però il lavoro operaio resta per lungo tempo sfruttato e sottopagato alimentato dalle migrazioni interne internazionali che consentono ai salari di restare fermi no solo quando la pressione comincerà a salire e l'eccesso di offerta diminuirà i salari cominceranno a salire in compenso però grazie a questo enorme aumento della produzione del reddito il reddito complessivo aumenta e aumenta la domanda però aumenta il reddito ma anche la domanda aumenta per alcuni soprattutto e non per per la grande maggioranza della popolazione aumenta per la borghesia industriale per quel ceto medio che si afferma e così è la belle poche no quella di fine ottocento che si caratterizza per un grande aumento della disperità di reddito e di condizione ma questo questa disperità è già se noi la confrontiamo con il passato enorme mai nel passato c'era stata una disparità tale tra un ceto e cosa per giorgio scusa siccome dobbiamo lasciare anche dello spazio per le domande e gli interventi e poiché vorremmo sentire qualche cosa a proposito dei limiti ecco allora va bene vado ai limiti che ti devi regolare diciamo di più sui tempi scusami qui avevo dei dati sull'andamento poi fino al ai tempi attuali perché il capitalismo continua a svilupparsi fino a che arriva a scontrarsi con i suoi limiti perché lo sviluppo industriale è sempre stato caratterizzato dall'idea che le risorse disponibili cioè quelle originarie siano pressoché illimitate e ciò ha comportato un uso e uno sfruttamento sempre più massiccio di risorse certo per in generale il miglioramento tecnologico ha sempre portato a un uso più limitato ed efficiente ma lo sfruttamento delle risorse già negli anni sessanta ha cominciato ha contribuito a questionare il modello di sviluppo basato sull'idea insomma chiedendosi se questo modello basato sull'idea che la produzione e l'uso di risorse poteva espandersi ad libitum potesse continuare all'infinito e ne è emerso un dibattito un dibattito che può essere esemplificato da questo studio che fu pubblicato nel 72 i limiti dello sviluppo commissionato dal club di roma era un'associazione di scienziati verso il messo insieme da aurelio peccei che presentava delle stime con delle simulazioni questo fu il primo studio che sostanzialmente questionò il modello di sviluppo industriale ma quindi capitalistico in sintesi diceva che i dei limiti saranno raggiunti prima o poi perché se gli attuali tassi di crescita in popolazione industrializzazione inquinamento produzione alimentare e sfruttamento delle risorse continuano prima o poi si raggiunge un limite perché le risorse non sono infinite è possibile diceva anche lo studio modificare i tassi di sviluppo e giunge a una condizione di stabilità economica ed economica come la chiamava sostenibile ma questo stato di equilibrio dovrebbe essere progettato in modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte e ciascuno abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale umano era una sorta di manifesto politico naturalmente da un certo punto di vista il rapporto era ingenuo poi anche le stesse simulazioni oggi sarebbero giudicate molto grossolane però il problema che poneva era non poteva essere l'uso le risorse naturali non sono infinite e non sono esauribili poi una versione più aggiornata sta pubblicata trent'anni dopo in cui l'accento è sul degrado ambientale si parla di sviluppo sostenibile insomma però l'impostazione resta la stessa ora oggi con il cambiamento climatico è chiaro che lo sfruttamento delle risorse non solo sono nocivi e dannosi per il fatto di contribuire all'effetto serra ma sono temi non più eludibili e che il problema va oltre quello di sostituire una risorsa con un'altra da prima di tutto perché l'emissione di gas procede a passo spedito no cioè il problema delle dei gas serra è un problema legato all'emissione di gas che vengono prodotti per la produzione di energia usando combustibili fossili questo è il tema principale a cui però questa emissione non contribuiscono tutti nello stesso modo c'è una grande disparità nella produzione di gas in cui anche l'italia peraltro fa la sua parte e però va bene adesso molto molto sapere questi sono dati che forse tra l'altro sono anche molto noti i gas vengono prodotti soprattutto per la produzione di energia ma anche agricoltura e zootecnia danno il loro contributo i trasporti riscaldamento ora il problema però è che a questo questa produzione di gas a cui non tutti contribuiscono nella stessa misura è vero anche dal punto di vista individuale non tutti contribuiamo alla emissione di gas quella che viene chiamata la impronta ecologica carbon footprint di ognuno di noi perché dipende dal nostro stile di vita insomma da quante automobili aerei eccetera eccetera utilizziamo quindi non solo non tutti i paesi contribuiscono allo stesso modo ma non tutte le famiglie non tutte le fasce di popolazione contribuiscono nello stesso modo a questo poi bisogna aggiungere che c'è una diseguaglianza ecologica ancora più grande perché non tutti i paesi stanno subendo le il problema delle del riscaldamento globale delle emissioni di gas nello stesso modo ci sono paesi soprattutto quelli nella della fascia tropicale del pianeta che sono più esposti di altri ai danni del cambiamento climatico del riscaldamento ora il problema è che si dice grande parte di queste emissioni non è eliminabile date le tecnologie le abitudini e resistenti in realtà è stato calcolate che quelle davvero ineliminabili sono circa un quarto al resto si potrebbe porre rimedio perché non è in sostanza in buona sostanza una questione di tecnologia ma di stili di vita e anche da come è organizzata la nostra società come ad esempio i trasporti se avessimo a disposizione mille navette in ogni città mille autobus elettrici forse tutti utilizzeremmo meno l'auto privata però il problema è che qui ci si è sempre il fatti guidare dal mercato il mercato guida le scelte tecnologiche quindi la tecnologia che si sceglie ma il mercato non tiene conto né dei beni comuni né del bene in generale risponde solo a domanda e offerta e la logica produttivistica è questa se il pil non cresce sono guai quindi dobbiamo far crescere il pil per fare crescere il pil dobbiamo aumentare la produzione è per questo che è necessaria la transizione ecologica che cos'è la transizione ecologica allora la transizione ecologica è perché non basta cambiare il motore bisogna cambiare l'organizzazione della società e dei servizi indirizzare le scelte tecnologiche cambiare le logiche non pensare che sia solo un fatto tecnologico dobbiamo fare delle scelte di politica di politica economica scelte di politica industriale scelte di politica urbanistica eccetera non bisogna farsi guidare dal mercato in più bisogna dire che la transizione ecologica è progressista e questo è importante che noi ce lo diciamo perché non è semplicemente appunto come dire tutti hanno sembrano sposare parole ma è progressista perché guarda il progresso dell'umanità guarda avanti ma soprattutto perché mette in discussione l'ordine diseguale corrente l'attuale disparità nella distribuzione dei costi e delle responsabilità ora nel passato si è generalmente passato a una tecnologia nuova grazie al mercato perché il mercato offriva soluzioni più profittevoli ma e quindi si pensa che la transizione ecologica verrà grazie a tecnologie più profittevoli ma non basta non è sufficiente le tecnologie più il mercato di per sé non cerca soluzioni giuste ma cerca solo il mercato è neutro cioè non esiste un prezzo giusto il mercato va guidato va imposto e poi bisogna andare oltre lo sviluppo appunto quello sviluppo che abbiamo visto che si è che soprattutto nella fase dello sviluppo capitalistico è stato visto solo come cresci bisogna superare certi paradigmi e quindi questo cosa vuol dire che bisogna intervenire sul sulla produzione al di là del fatto che a me questa discussione sembra un po come dire inutile il cambiamento climatico e opera o meno del dell'uomo dell'umanità non importa se lo è o no il fatto è che quello che noi facciamo sta contribuendo poi magari il cambiamento climatico ci sarebbe stato lo stesso ma noi stiamo contribuendo e quindi noi dobbiamo per cambiare modello e paradigma e non basta pensare che sia una soluzione ecologica e tecnologica perché il questo questo questa fede nel nella tecnologia sarà la nostra dannazione se noi pensiamo di aspettare la tecnologia buona prima di intervenire non usciremo da questa situazione perché per passare a una tecnologia buona nel passato ci siamo sempre affidati al mercato quando si è passati alla alla macchina al motore a scoppio non era perché il carbone inquinava ma perché il motore a scoppio era più efficiente poi è vero e sono per sparito il fumo di londra ma non è che la tecnologia nuova era migliore dal punto di vista ecologico era semplicemente più profittevole quindi cosa vuol dire che bisogna fare inconti in tasca alla tecnologia e quindi decidere chi paga che cosa ed è qui che devono intervenire i governi regolamentando sì ma anche imponendo una tassazione imponendo una diversa contabilizzazione imponendo anche in definitiva una diversa riallocazione del profitto sto andando molto in fretta l'illusione dello sviluppo se noi leggiamo il pnr ad esempio si continua a parlare di sviluppo questa è la cosa che a me lascia ancora abbastanza basito e poi si dice naturalmente che deve essere sostenibile ma come si può pensare di continuare a consumare risorse illimitatamente e pensare che lo sviluppo sia sostenibile già ce lo dicevano qui appunto meadows e tutti gli altri con i limiti dello sviluppo non può essere uno sviluppo sostenibile se si continua a consumare sempre più risorse e a rovinare il l'ambiente volfan sachs in un saggio recente ricordava come il verbo sviluppare che un tempo era intransitivo ai tempi di marx e schumpeter diceva un fiore una pianta si sviluppa oggi è diventato transitivo si fa sviluppare un paese un'economia ai paesi poveri in via di sviluppo per anni è stato detto che finché non facevano come noi non si sarebbero sviluppati la chiave del nostro sviluppo era stata passare da un'economia dedicata a soddisfare bisogni a una dedicata a istigare esigenze nuove il consumismo poi i mercati si sono estesi e con essi bisogni di e le domande i sub hanno sostituito i risciò i telefoni cellulari hanno preso il posto delle riunioni di comunità l'aria condizionata ha soppiantato la siesta come dice saxe però oggi sviluppo cos'è limitare catastrofi non quando quando guardiamo agli sviluppi agli obiettivi dello sviluppo sostenibile oggi l'onu dice parliamo di sopravvivenza sostenibile insomma lo sviluppo come crescita è insostenibile e la sostenibilità è uno simono bisogna andare oltre lo sviluppo io mi potrei fermare anche qua perché così c'era anche questo studio di pata das gupta che è uscito l'anno scorso un rapporto fatto per il governo inglese in cui dice che la natura è un capitale il nostro capitale più prezioso e trascurarla e sfruttarla come si sta facendo oggi non solo è anti economico ma ci porterà alla distruzione ora questo di das gupta interessante perché das gupta in fondo non è un radicale è un economista mainstream ma ormai anche gli economisti mainstream si stanno rendendo conto che il passo va cambiato questo rapporto di das gupta tra l'altro bisognerebbe farlo leggere ai nostri politici c'è una sintesi di dieci pagine che è stata scritta apposta per i policy makers perché è completamente assente questa consapevolezza dai politici che parlano di sviluppo di crescita come come dimostra appunto il pnrr a cui tanto oggi ci stiamo facendo riferimento ok io mi fermerei qua piero si grazie per giorgio splendida lezione ampia con un respiro storico davvero ampio sorprendente in un economista non vuole essere un'offesa io per fortuna sono amico di economisti che hanno sensibilità e cultura storica anche di sociologi che hanno cultura storica allora se mi consenti prima di dare la parola agli altri io vorrei intervenire a caldo su una questione che riguarda un limite teorico e analitico diciamo delle culture delle stesse culture che criticano lo sviluppo da un punto di vista ecologico a partire dalla diciamo dai limiti dello sviluppo opera meritoria del club di roma c'è l'idea che la natura sia una quantità cioè che le risorse sono finite questa è un'idea limitata cioè si pensa alla natura questo lo pensava anche heidegger che molto con molto anticipo si poneva questo problema come una cava no la cava si esaurisce a furia di estrarre la natura è un insieme di equilibri a noi in gran parte ignoti spesso allora un esempio se io distruggo un bosco montano non è che elimino una risorsa finita sia pure riproducibile no creo degli squilibri straordinariamente ampi intanto impedisco che si formino le sorgenti perché è il bosco che trattiene le acque piovani le nevi eccetera se invece le acque invernali precipitano provocano danno cioè provocano fenomeni erosivi ma la distruzione del bosco cancella tutta la biodiversità sia animale sia vegetale e altera il clima cioè fa diventare il clima locale secco perché non raccoglie le piogge e poi non produce più ossigeno e dal punto di vista diciamo climatico tutta la zona va alterata eccetera ecco questo un altro esempio drammatico che noi ci siamo dimenticati il buco dell'ozono il buco dell'ozono è stato prodotto dai gas clorofluorocarburi che sono un'invenzione chimica i gas propellenti come sappiamo usati nei frigoriferi usati nelle bombolette spray così via allora un chimico come team flammery ha ricordato un particolare inquietante cioè gli scienziati sono stati incerti nella composizione di questo gas se utilizzare il cloro o il bromo il bromo e 500 volte è stato scoperto dopo 500 volte più distruttivo dell'ozono atmosferico del cloro se fosse stato utilizzato il il bromo al posto noi avremmo avuto conseguenze devastanti sul sugli esseri viventi sulla terra perché la distruzione della fascia atmosferica della zona sarebbe stata vastissima allora questo per dire che non è che solo si consumano risorse infinite si distruggono gli equilibri di un ambiente all'interno del quale la popolazione umana e gli esseri viventi sono finora vissuti quindi bisogna calcolare anche questo danno il danno che si produce non solo la diciamo la il deperimento delle risorse che sono che sono naturalmente finite grazie scusatemi scusate l'invasione non la parola a chi a chi la chiede io l'ho chiesta non so se sono senso vai si è molto molto semplice nel senso che guido viale che ha fatto una lezione qui alla scuola cosmopolita ci deve sottolineare la differenza tra transizione ecologica e conversione ecologica lui da diceva molto semplicemente in questi termini la transizione ecologica il passaggio da un punto all'altro su una stessa retta diciamo che potrebbe essere quella dello sviluppo la conversione ecologica è invece quella che si fa sulla che non si dovrebbe fare sull'autostrada cioè si 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 gira di novanti di 180 gradi e si procede voglio dire una direzione diversa ecco io credo che tu lo abbia detto anche anche questo lo abbia detto in termini diversi cioè non basta lo sviluppo tecnologico tra l'altro break gregory batson diceva appunto che la tecnologia può risolvere un problema ma spesso ne crea un altro ancora più difficile da risolvere quindi su questo siamo d'accordo nel senso che c'è un cambio ci deve essere un cambiamento antropologico culturale sociale e così via e io ecco finisco qui non è proprio una vera e propria domanda il pnr da questo punto di vista bisognerebbe proprio smascherarlo perché forse non lo si fa abbastanza voglio dire nel senso che tutto ciò che indica non vai nella direzione del della conversione o transizione ecologica d'altra parte basta pensare al solo ponte dello stretto che vengono i brividi insomma a pensare lo realizzato comunque grazie per giorgia avevo posto una domanda cioè volevo porre una domanda è una risulta montanari si volevo dire prima la valutazione su diciamo il pensiero di alexander langer che diceva sul treno dello sviluppo sostenibile cioè lo sviluppo sostenibile non esisterà perché sul treno dello sviluppo sostenibile due terzi dell'umanità comunque non potranno salirci e poi faceva riferimento a questo disallineamento tra crescita e sviluppo e l'altra l'altra questione riguarda invece la decrescita cosa ne pensa della decrescita che io intendo in genere appunto come riduzione della produzione dei rifiuti ad esempio e comunque diciamo come applicazione del concetto che le risorse della terra appunto non sono illimitate che pochi consumano le risorse di tutti poi altre due riflessioni velocissime c'è una riguarda il fatto che comunque la natura ha bisogno di tempo per rigenerarsi e quindi forse la risposta sta diciamo le prospettive stanno da un lato appunto in questa capacità di adattamento consentendo alla natura di avere il tempo necessario per rigenerarsi rispetto appunto al consumo di risorse di oggi la l'altra risposta possibile è quella della dematerializzazione che potrebbe essere un interessante comunque via di uscita e infine appunto cosa ne pensa dell'economia circolare anche perché il professor Berilacqua mi ha dato un lungo testo che sto studiando che critica l'economia circolare però mi sembra interessante il fatto che anche in quel testo si parla appunto adesso non lo sto a citare di conversione delle risorse soprattutto di origine biologica che appunto hanno la capacità rispetto a quelle tecniche in un modello di economia circolare comunque di rigenerarsi infine il ruolo della chiesa adesso questa è una domanda che più fa più riferimento all'interessantissima parte storica che ha sviluppato il professore e cioè in fondo a me viene in mente perché quando penso a Genova che è ancora oggi diocesi di Genova e Santo Domingo credo che il ruolo della chiesa sia stato molto importante e abbia svolto una funzione essenziale anche se l'ha laudato sì sostituisce il termine di sviluppo sostenibile con quello di sostenibilità della vita sulla terra che forse anche questa potrebbe essere interessante chiave di lettura mi fermo qua intervengo io o vuoi rispondere prima le domande? no no intervieni perché comunque avevo un paio di commenti e considerazioni sull'interessante presentazione che hai fatto il primo commento è il seguente anche se in filigrana è sempre presente un po' in tutte le fasi storiche che hai delineato però non è mai stato direttamente chiaramente esplicitato il tema dell'energia e delle fonti energetiche perché il grande punto di svolta che c'è stato nel XVIII secolo a riguardo della rivoluzione industriale sembra che fosse a dipeso essenzialmente dall'innovazione tecnologica ma l'innovazione tecnologica è stato uno strumento che in realtà ha permesso di trasformare il valore della natura in valore d'uso per l'umanità poi giustamente analizzato in questi termini da Marx e che ha fatto sì che nel metabolismo della società entrasse una quantità di risorse veramente rilevante per cui se uno guarda lo so che in termini economici si guardano sostanzialmente gli input output economici e si considera pari a zero il valore d'uso della natura però in realtà in termini analitici contemporanei il valore intrinseco della natura è un valore che ha contribuito all'aumento del PIL e all'aumento della ricchezza e quindi lo straordinario aumento di questa ricchezza è stato dovuto alla straordinaria emissione di input energetico originato dalle fonti energetiche che sono accumulate nel sottosuolo per alcune milioni di anni e che sono stati immediatamente e rapidissimamente liberati al servizio dell'aumento di produzione questo è un fenomeno che è un fatto che ha portato all'enorme sviluppo capitalistico e che non può essere trascurato a mio avviso perché è intrinseco all'aumento della produzione all'aumento di output e quindi all'aumento di PIL e di ricchezze questo è un po' a propogliere questo punto di svolta e questo in realtà anche oggi rappresenta un fattore nodale perché è vero che al momento l'uso delle fonti fossili è venuto alla ribalta soprattutto per il proprio aspetto di impatto ambientale ma ancora oggi la produzione è basata sappiamo quali sono le fonti energetiche che alimentano il mondo è alimentato da fonti fossili la cui rarefazione, il cui aumento o fluttuazione dei prezzi ha un effetto molto importante sulle dinamiche economiche allora mi piacerebbe un pochettino capire come questo aspetto possa essere affrontato oggi affrontato oggi perché è chiaro che se dobbiamo pensare a una società della chiamiamola della sussistenza, della sobrietà o della decrescita una società equa per tutti si deve pensare a questo aspetto dell'input energetico all'interno della nostra società cioè o cambiamo società e andiamo verso una pauperizzazione rispetto a quella che conosciamo adesso altrimenti l'input energetico è necessario la seconda considerazione saltando evidentemente ai giorni nostri e al futuro hai detto che in realtà la transizione ecologica o transizione energetica sono due termini diversi ma che hanno molti punti in comune molti punti in comune si farà grazie a cambiamenti di stili di vita e in maniera indipendente dalla tecnologia su questo punto anch'io ho quasi qualche osservazione che dissento un pochettino da questo perché sono d'accordo sul fatto che la tecnologia non può essere in nessun modo visto come il toccasana della società e della situazione di crisi nella quale ci troviamo ma è altresì vero che il corno della transizione che ricade nella categoria della transizione energetica che è fondamentale per la decarbonizzazione della società non può che passare tramite uno shift radicale dai combustibili fossili che appunto sono dei combustibili di stock a delle fonti energetiche rinnovabili quindi cambiando completamente il paradigma dall'uso di uno stock all'uso di un flusso che sulla scala umana ha una durata infinita allora questo passa attraverso purtroppo devo dire purtroppo passa attraverso la tecnologia e allora in questi termini dire che la tecnologia non risolva purtroppo è una parte fondamentale di questa transizione ci sono persone come Jacobson che è un notissimo studioso di Stanford in materia di transizione energetica che è da anni che sviluppa modelli che vedono tra il 2030 e il 2050 l'eliminazione delle fonti fossili a vantaggio delle fonti rinnovabili questo è chiaro è un processo che deve essere accompagnato a scelte politiche e non è unicamente un processo economico però questo c'è c'è esiste ed è disponibile come veramente come modello guida molto molto solido scusate Emanuele scusate dovresti concludere per favore scusate scusate pronto? sì allora una mozione d'ordine Roberto Moray ha lasciato a me il compito di concludere io non so quanto dura la trasmissione perché ha una durata per cui rischiamo che l'interruzione diciamo se sforiamo i tempi allora io direi ti chiederei di concludere ci sono altri iscritti a parlare a Costoro chiedo di intervenire brevemente e a Pier Giorgio di poi concludere diciamo mettendo insieme le varie le varie questioni a cui puoi in qualche modo rispondere ti chiedo scusa ma rischiamo l'interruzione immediata della trasmissione perché Moray non c'è è lui che dirige e io ho il compito di chiudere prego concludo rapidissimamente va un po' sulla farsa riga di quanto ho chiesto a Pinuccia ed è il punto nodale della decrescita perché Erlich con il suo modello IPAT ha chiaramente messo in evidenza che la tecnologia può migliorare ma se la popolazione e la ricchezza non diminuiscono l'impatto continua a aumentare allora di popolazione o di risoluzione malthusiana della popolazione non si è parlato ma credo che in qualche modo noi dovremmo anche mettere sul tavolo questo problema di tipo demografico e il problema dell'affluence cioè della ricchezza che richiama inevitabilmente la decrescita decrescita di beni di consumi di similità allora questi sono dei tre punti grazie grazie Emanuele Dario sì allora io sarò breve e volevo chiedere come vede in questo discorso sullo sviluppo l'innovazione del Green Deal del Green Deal dell'Unione Europea se può essere considerato un tentativo diciamo di cambio di paradigma o se invece siamo ancora su quella stessa linea che non modifica più di tanto diciamo un'evoluzione 2.0 dello sviluppo sostenibile questo grazie resta in moda sì allora vedo vedo Romana Mancini buonasera io volevo sottolineare il fatto che il problema dell'inquinamento atmosferico e delle ricadute che ha sulla nostra salute è molto più complesso di quello che può sembrare a prima vista e alcune proposte ad esempio quella recente del sindaco quartieri di ampliare la fascia verde a Roma la ZTL mi sembrano veramente un po' superficiali anche considerando quello che ha detto il professor Ardeni oggi cioè che in realtà ad esempio gli Stati Uniti con quel 25% sono un continente che l'America insomma è il continente che inquina di più e quindi io credo che la tecnologia può dare un grande contributo alla transizione ecologica però dobbiamo superare questa forma mentis che ci vede sempre legati agli stili di vita che abbiamo condotto fino ad oggi ad esempio leggevo ieri che praticamente quest'anno solamente il 12% dei dipendenti dei lavoratori dipendenti usa lo smart working abitualmente cioè in modo continuativo come è stato durante il covid questo è stato un grandissimo strumento nelle mani della società per cambiare e ridurre veramente l'inquinamento ogni tipo di inquinamento ed invece a causa del decreto Brunetta la maggior parte dei dipendenti è stata costretta a rientrare in prevalenza negli infici cioè non è sufficiente proporre queste idee così estemporanee come la costruzione di piste ciclabili scusate se insisto a volte su questo aspetto che poi finiscono nel nulla Mancini però bisognerebbe arrivare a una domanda volevo dire semplicemente questo e la domanda è non vi sembra opportuno anche provvedere ad un piano serio di riforestazione del nostro paese considerata la frequenza degli incendi in Etiopia con questo piano Green Legacy hanno piantato in un giorno 350 milioni di alberi e 20 miliardi è l'obiettivo di questa quarta fase del progetto che adesso stanno realizzando ho concluso allora io rispondo per punti molto rapidi Piero sono d'accordo sono d'accordo ma il cambiamento climatico ha due componenti uno è il riscaldamento o varie componenti riscaldamento globale e l'altro è senz'altro l'alterazione il degrado ambientale insomma della natura quindi l'impatto sulla natura sulla biodiversità tutto quello che tu dicevi quindi sono d'accordissimo quindi infatti non dobbiamo parlare solo di riscaldamento ma dobbiamo parlare di cambiamento climatico dovuto alle attività umane che sta provocando tra le altre cose riscaldamento globale ma anche alterazione dell'ecosistema eccetera eccetera quindi d'accordissimo su questo conversione o transizione beh io Enzo io ho parlato di transizione ma è chiaro che qui si parla di un altro paradigma quindi ora però quando ci sono varie questioni che vengono fuori dagli interventi dobbiamo pensare che un conto è il voler essere quello che noi vorremmo e quindi anche magari un programma politico un conto invece è quello che oggettivamente si può e anche realisticamente si può oppure con un obiettivo dato nella transizione ecologica che questa dovrà essere sicuramente le tecnologie saranno di grande aiuto perché ad esempio solo passare dall'uso di gas di petrolio di benzina al metano sarebbe meglio ma non è meglio complessivamente ma perché il metano c'ha meno di decarbonica c'ha più metano ma c'ha meno di decarbonica quindi però vedi il problema è appunto il paradigma allora noi qui per questo dicevo la transizione ecologica è progressista perché qui si parla di paradigma ed è per questo che diventa fondamentalmente anticapitalistico e qui rispondo anche sulla questione della decrescita ma che cos'è che ci fa produrre così tanto abbiamo bisogno di tanta produzione no evidentemente non ne abbiamo bisogno perché il 90% delle cose che compriamo non sono strettamente indispensabili intanto c'è un aspetto di consumismo di vero e proprio consumismo ma al di là di questo però è un sistema che si genera sul il sistema capitalistico sulla generazione del profitto individuale allora se io devo fare un'attività che mi fa guadagnare profitto io faccio quell'attività se io devo produrre tante scarpe tutte rosa io le produco però perché quelle mi fanno guadagnare però non sono strettamente necessarie besterebbero le scarpe che producono gli altri sì però le mie scarpe rosa mi faranno guadagnare allora la decrescita è certo che è concepibile ma può essere anche concepibile come obiettivo finale ma io la vedo solo se può essere dentro un altro paradigma ma allora parliamo di paradigmi e quindi dobbiamo mettere in discussione fondamentalmente questo capitalismo perché guardate il problema non è il capitalismo in assoluto il problema è questo capitalismo dovrebbe essere un capitalismo molto temperato un capitalismo dove intanto non sono permessi e permissibili gli eccessi di profitto i guadagni enormi cioè questa è una società che è cresciuta grazie all'individualismo un'economia che è cresciuta ma che consente degli sperequazioni enormi che non sono affatto necessarie alla sopravvivenza del capitalismo quindi sviluppo sostenibile Alexander Langer certo ma è quello il discorso non può essere pensabile che il mondo vada avanti con questi livelli di consumo e di produzione per tutti non ce n'è per tutti ma basta leggere anche Amitav Ghosh se voi leggete le sue cose bellissime Amitav Ghosh ha scritto dei saggi e dei romanzi bellissimi su questo tutte le storie che lui raccontano mostrano che ma perché mai gli asiatici oggi non dovrebbero aspirare ai livelli di benessere di consumo di cose inutili che abbiamo noi perché non bisogna dargli questo e allora siamo noi che gli diciamo no non potete farlo perché non ce ne sarà per tutti questo è il problema è un problema questo è il problema allora Green Deal sì secondo me il Green Deal è sviluppo sostenibile 2.0 quindi mi fermo lì giusto per essere telegrafico come sull'economia circolare cioè ci sono tante idee poi voglio fare una battuta ultima su questa cosa della riforestazione guardate che in Italia non c'è bisogno di più foreste ce ne sono tantissime la superficie forestale è aumentata moltissimo negli ultimi anni negli ultimi decenni ma perché perché le colline le montagne sono state abbandonate e manca il presidio sul territorio sono state abbandonate le nostre montagne abbiamo solo degli alberi ma abbiamo degli alberi sbagliati nei posti dove non ci servono prima di tutto però non c'è bisogno di riforestare c'è bisogno di consumare meno il suolo cementificare molto di meno usare altri mezzi di trasporto monitorare e regolamentare l'uso delle acque di queste cose c'è bisogno non di riforestare e poi tra l'altro la riforestazione come avviene se noi andiamo sull'appennino vediamo i monti pieni di abeti ma l'abete non era sull'appennino l'abete è una pianta estranea e l'abete ha un effetto deleterio sul sottobosco non cresce sottobosco con l'abete abbiamo centinaia di ettari ad abeti e sono spariti il querce i faggi e i castagni allora quando si riforesta bisogna sapere riforestare riforestare in modo saggio e comunque questa non è la soluzione bisogna consumare meno suolo bisogna utilizzare meglio il territorio i terreni e in questo di nuovo è il modello di sviluppo perché noi non parliamo quasi mai di trasporti ma invece si continua a pensare a Bologna vogliono fare un'autostrada con 18 corsie allora perché così il trasporto privato sarà più scorrevole allora 18 corsie di autostrada in una città come Bologna vuol dire un livello di emissione di gas enorme ma vuol dire tantissimo uso di auto privata invece del trasporto pubblico invece di mettere 10.000 autobus magari elettrici a disposizione dei cittadini bolognesi no gli si dà 18 corsie di automobili e questo è quello che avvole anche la nostra sinistra italiana che ha in mente un modello di sviluppo che è quello mi fermo qui Piero grazie molte Pier Giorgio bellissima lezione anche bellissima serata di discussione ti ringrazio anche particolarmente per queste ultime notazioni sui nostri boschi e sul nostro territorio che sono cose verissime hai tirato fuori le tue competenze agrarie diciamo in maniera più brillante io però prima di informarvi sulla prossima lezione non esista la tentazione di dire la mia sulla tua considerazione a proposito del capitalismo il capitalismo è fondato sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo ed è fondato sul profitto questo è ineliminabile noi dobbiamo incominciare a diciamo dividere concettualmente il mercato dal capitalismo dal modo di produzione capitalista il mercato come ben sai visto la competenza storica che possiedi esiste ben prima della nascita del capitalismo e il mercato è un'intelagliatura essenziale perché lo scambio di merci ma anche di conoscenze di rapporti umani no è la struttura della società non deve essere necessariamente dominato dalla ricerca del profitto e dalla competizione ma può essere regolato dalla cooperazione ma di questo parleremo però grazie perché è stata davvero tanto utile la tua la tua lezione grazie a te grazie a voi grazie a tutti grazie informo aspetta informo i nostri i nostri allievi i nostri amici della lezione che si terrà il prossimo giovedì sarà tenuta dal professor Filippo Barbera il tema sarà la riabitare l'Italia riabitare l'Italia servizi essenziali policentrismo servizi fondamentali nuove popolazioni ed è dedicato naturalmente al problema delle aree interne che tu hai appena evocato ricordando parlando dell'Appennino grazie Pier Giorgio ancora grazie a tutti voi ci vediamo giovedì buonasera arrivederci grazie arrivederci ciao arrivederci ciao 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 arrivederci ciao